Io credo che il rapporto tra donne e lavoro, mondo del lavoro, sia ancora un rapporto fortemente conflittuale. Questo perché abbiamo una società che non è stata in grado di strutturarsi per corrispondere alle esigenze molteplici della donna impegnata fuori dal contesto familiare. Noi siamo partite come donne più tardi degli uomini, abbiamo iniziato il nostro percorso di partecipazione sociale e quindi di contribuzione all'economia del Paese. Si consideri solo che la prima donna in magistratura è entrata negli anni 60. In questi circa 60 anni di storia siamo riuscite a realizzare grandi cose, abbiamo raggiunto grandi traguardi, ma ancora ci sono delle difficoltà. La donna lavora incontrando maggiori ostacoli dell'uomo, nonostante sia più scolarizzata, nonostante abbia dimostrato di raggiungere risultati più alti anche nel conseguimento di titoli universitari, non riesce però a raggiungere le cosiddette posizioni decisionali. C'è un blocco alla progressione di carriera delle donne che dal mio punto di vista è conseguenza proprio di questa mancanza dello Stato di attenzione nei confronti di quel bagaglio di esigenze diverse che la donna porta. Per cambiare questo Stato di cose bisognerebbe non solo riorganizzare in maniera più puntuale il mercato del lavoro per rendere le forme di contratto flessibili anche adeguatamente garantite, ma consentire anche uno Stato sociale in grado di sopperire a quelle esigenze naturali della donna che vengono messe in difficoltà con il suo impegno lavorativo. Il binomio donne-politica non si è ancora emancipato, purtroppo è rimasto ancora allo stadio dello spot elettorale, tutti quanti utilizzano il messaggio della maggiore partecipazione femminile per accreditarsi una maggiore attenzione e un maggior consenso, ma la prova dei fatti però cadono. Purtroppo non si è ancora affrontato l'argomento nella maniera che meriterebbe, parlando di partecipazione come elemento per riuscire a costruire una vera democrazia. Anche nel Partito Democratico si è creata questa situazione negativa, Veltroni ha fatto un gran parlare di innovazione, di cambiamento e di apertura, ma in realtà la lettura delle liste è stato comprensibilmente oggetto di grandi critiche dall'interno e dall'esterno. I numeri si sono ridotti e come è avvenuto anche per gli altri appuntamenti elettorali, le donne sono per lo più nelle cosiddette posizioni a rischio, posizioni di non elegibilità. Lo stesso dicasi per gli altri partiti, anche il Partito delle Libertà ha vissuto la difficoltà di dare risposta alle esigenze di maggiore partecipazione che vengono rappresentate da più parti, compresso come era dalla necessità di dare risposta a tutte quante le domande dei piccoli partitini, delle piccole sigle che ha voluto assemblare, ha voluto costringere in questo partito, con la conseguenza di dover mettere nelle cosiddette posizioni buone, posizioni elegibili, quelli che dovevano essere sistemati per dar rappresentanza e dar voce a tutte quante le sigle confluite nel PDL. Io credo che non si debba parlare di un Parlamento rosa, o meglio, l'obiettivo non dovrebbe essere quello di costruire un Parlamento più rosa, dovrebbe essere quello di costruire un Parlamento formato dalle migliori energie, che sia il frutto di un lavoro di valorizzazione delle intelligenze e delle sensibilità presenti nel Paese che non sono necessariamente di genere maschile. Questa dovrebbe essere la linea guida, questa dovrebbe essere l'approccio di tutti quanti i leader nel momento in cui compongono le cosiddette liste di eletti. Purtroppo così non è, così non avviene. L'Udc, a differenza degli altri partiti, ha almeno il piccolo merito di non aver strumentalizzato la presenza delle donne nelle proprie liste, non è affatto argomento di propaganda elettorale. Mi auguro che a questo atteggiamento serio corrisponda un altrettanto atteggiamento serio che porti a una composizione di liste maggiormente plurali. La presenza delle donne all'interno dell'Udc non è stata mai consistente. Sicuramente c'è stata una, si può notare, una crescita di elezione in elezione, ma parliamo sempre di piccolissimi numeri. Io spero che nelle prossime occasioni ci sia una maggiore rappresentanza, anche perché con una maggiore presenza femminile forse si potrebbe dare più coerenza al messaggio politico che come Udc portiamo avanti. Un partito che punta sui valori, i valori sono la solidarietà, la partecipazione, l'accoglienza, la democrazia. Rispetto a questo tipo di messaggio politico è necessario costruire anche una squadra che porti avanti il messaggio che sia espressione di una pratica concreta di questi valori. Allora una maggiore partecipazione, la dimostrazione che non si consolidano sempre le solite posizioni, che si ha uno sguardo anche a tutto il mondo che ci circonda, i giovani e le donne per l'appunto e che sono purtroppo ancora troppo fuori dalla partecipazione politica, sarebbe la dimostrazione di una serietà di impegno politico che io mi auguro per il mio partito, mi auguro per l'Unione di Centro. La candidatura di Alessandra Borghese credo che sia già un segnale di coerenza molto forte, spero non sia la sola candidatura, spero che ce ne siano altre, di altre espressioni impegnate del mondo femminile che possano occupare posizioni apicali nelle liste dell'Udc in tutta Italia. Sull'8 marzo si racconta molto, non si sa ancora con certezza perché e chi abbia scelto questa data, mi piace pensare che sia veramente la ricorrenza per ricordare la battaglia di tante donne che hanno cercato di far emergere l'importante lavoro femminile, l'importante contributo femminile alla costruzione della civiltà. Io credo che ogni anno noi dovremmo approfittare di questo momento, di questa ricorrenza, non tanto e non solo per ricordare quello che è stato, ma soprattutto per annotare i piccoli passi che compiamo ogni giorno verso la costruzione di una società veramente moderna e soprattutto plurale.